50 anni morta, la fermata del bus si sospetta overdose, furti nei garage di muraglia individuati responsabili, suicidio assistito e morto Fabio Ridolfi, truffati da finte sordomute denunciata una rumena. Elezioni solo riconferme fra i sindaci di Pesaro e Urbino. Buona serata, ben ritrovati al nostro telegiornale di Rossini TV Canale 80, oggi è martedì 14 giugno e apriamo questa edizione con un episodio di cronaca avvenuto oggi attorno all'ora di pranzo a Pesaro. Verso le 13 infatti alcune persone che si sono dirette alla fermata dell'autobus a fianco della Cop del Miralfiore hanno trovato una donna senza vita avvertendo subito la polizia. La volante, recatasi sul posto, ha constatato il decesso di questa donna che a quanto ha preso avrebbe una cinquantina d'anni, sarebbe senza fissa dimora e si sospetta che sia deceduta a cause di overdose. E continuiamo con la cronaca, torniamo ad occuparci dei furti avvenuti nei giorni scorsi nel quartiere di Muraglia dove una banda di ladri aveva violato 11 garage fra via Petrarca, via Guerrini e strada dei Condotti, rubando una Porsche e tre biciclette. Grazie alle indagini e all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, la squadra mobile di Pesaro è riuscita a individuare la costosa cabriolet nei pressi di un casolare abbandonato vicino a Fano. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno sorpreso all'interno dell'edificio tre uomini, due dei quali si sono dati alla fuga. L'uomo catturato, di origine moldava, aveva con sé una carta d'identità rumena falsa che utilizzava per spostarsi in Europa. All'interno del casolare la squadra mobile ha ritrovato le chiavi della Porsche e alcune scarpe di marca rubate anche quelle dai garage di Muraglia. La macchina cabrio è stata consegnata ai proprietari, mentre l'uomo è stato incarcerato a Villa Fastigi in attesa di giudizio. È morto Fabio Ridolfi dopo sei ore di sedazione profonda tetraplegico da 18 anni, lascia la famiglia che lo ha accompagnato fino all'ultimo in questa sua scelta, esausto dalla sofferenza che lo tormentava. Vediamo allora i particolari in questo prossimo servizio. Il fratello Andrea sceglie queste parole per comunicare all'associazione Luca Coscioni la morte di Fabio Ridolfi. Si è spento ieri sera all'età di 46 anni, nella sua casa a Fermignano, dopo aver sofferto per 18 anni, a causa di una tetra paresi, è costretto ad una vita alla quale non sentiva più appartenere. La sedazione profonda e continuata che gli è stata applicata ieri sarebbe dovuta durare 15 giorni, che lo avrebbe spento lentamente per mancanza di nutrimento come lui stesso aveva disposto. E invece per lui la luce si è spenta dopo appena sei ore dall'iniezione, liberandosi da quella sofferenza che da troppo tempo lo tormentava. Fabio era talmente debilitato che il suo fisico non ha retto la somministrazione del farmaco, fatto al mattino nel suo letto da una squadra di medici. E proprio attorno al suo letto, sul quale sdraiato dal 2004, c'erano anche i familiari, quelli che in questi anni di dolore lo hanno accompagnato quotidianamente, per regalargli un ultimo sorriso prima che Fabio chiudesse gli occhi per sempre. Il respiro si è fermato sei ore dopo. L'orologio segnava le 17.23, poi la constatazione del decesso da parte dell'equip medica. Poco dopo, la famiglia comunica la dipartita all'associazione Coscioni, la quale diffonde la notizia sulla sua pagina Facebook. Se n'è andato sereno tra l'affetto dei familiari, degli amici e del capitano della sua squadra del cuore, la Roma. Poche ore prima dell'iniezione ha potuto esaudire infatti un ultimo desiderio, ricevere un video messaggio di salute e vicinanza da parte del calciatore Lorenzo Pellegrini, in grado di riaccendere in lui uno spiraglio di felicità. Anche la città di Fermignano si stringe al dolore della famiglia. Quella Fermignano che domenica sera è scesa in piazza per dedicare un ultimo saluto al suo Fabio, che da lì a pochi giorni avrebbe ricevuto l'iniezione del farmaco. L'associazione Coscioni, che ha reso virale la storia di Fabio Ridolfi, non ci sta e chiede dei provvedimenti immediati da parte del governo. Da quattro mesi infatti Fabio aveva chiesto l'aiuto medico al suicidio, rientrando nelle condizioni previste dalla Corte Costituzionale, ma una serie di incredibili ritardi da parte del servizio sanitario l'hanno portato a scegliere la sedazione profonda e la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale in corso. Ed ora torniamo alla cronaca, con la denuncia da parte della polizia di una 25enne rumena accusata di essersi finta sordomuta, facendo accattonaggio in centro storico a Pesaro. L'intervento degli agenti è avvenuto in via San Francesco, grazie alla segnalazione fatta da alcuni cittadini che erano stati fermati da due donne. Le due straniere chiedevano dei soldi con tanto di finto certificato per persone non udenti, millantando di aprire un centro internazionale per bambini poveri. La polizia, per il reato di esercizio molesto di accattonaggio, ha denunciato la 25enne rumena, sequestrandole il foglio mostrato ai passanti. Ed in queste ore si sta completando una maxi-operazione dei carabinieri forestali che ha coinvolto ogni provincia marchigiana producendo otto arresti per corruzione. Un funzionario pubblico dipendente della Regione Marche, residente in provincia di Ancona, è stato condotto in carcere e altri sette imprenditori marchigiani sono stati posti agli arresti domiciliari accusati di aver costruito un giro di tangenti per pilotare gare di appalto e affidamenti di lavori della Regione Marche. Gli interventi riguardavano lavori sulle aste e fluviali relative a manutenzione idrica con tagli di vegetazione per ricavare biomasse combustibili. In totale sono 24 gli indagati, compreso un funzionario dell'ex genio civile di Pesaro. L'accusa è quella di corruzione. Le indagini hanno fatto emergere numerosi indizi di tangenti in denaro e inutilità percepite dal funzionario della Regione per fornire agli imprenditori informazioni utili e condizionare gli esiti delle gare d'appalto. Tavoletto, Frontino e Terre Roveresche sono questi i tre comuni che hanno visto la riconferma dei rispettivi sindaci al termine delle elezioni. Vediamo il servizio. Le elezioni amministrative per i tre comuni della provincia di Pesaro Urbino si sono tutte concluse con lo stesso esito. Tutti e tre i sindaci sono stati riconfermati. Nella giornata di domenica si è votato a Frontino dove il già primo cittadino Andrea Spagna è stato eletto prima dello spoglio pronto dunque ad iniziare il suo terzo mandato. Spagna non aveva sfidanti ma ha raggiunto il necessario quorum già domenica col 72% di affluenza. Affluenza al 64% a Terre Roveresche che ha portato al secondo mandato di Antonio Sebastianelli che ha raggiunto il 67,7% a discapito dello sfidante Sauro Marcucci con il 32,3%. A Tavoleto con un'affluenza alle urne del 54% c'era tanta curiosità per il partito gay LGBT rappresentato da Paolo Marozzi che ha però ottenuto solamente il 19,4% venendo schiacciato dall'80,8% di preferenze per la rielezione di Stefano Pompei. Beh, logicamente siamo contenti del risultato in quanto la popolazione che è andata a votare e quindi che ha espresso la preferenza per la nostra la nostra lista ci dà ci dà felicità ma soprattutto ci dà come sprone a lavorare meglio nei prossimi 5 anni per avere un paese come Tavoleto sempre più inclusivo sempre più vicino alla gente dando maggiori servizi sinceramente ero molto fiducioso anche perché la lista avversaria è una lista che non era conosciuta sul territorio quindi quando sicuramente ha avuto più difficoltà nell'approccio con la popolazione noi eravamo abbastanza fiduciosi proprio perché i nostri 5 anni precedenti secondo me ha portato una luce nuova a Tavoleto anche proprio fisicamente perché da quando siamo entrati noi dopo il commissariamento abbiamo sicuramente dato una una sferza al nostro comune una sferza in bene con lavori con illuminazioni con la nostra presenza con tutto quello che potevamo fare anche se la pandemia purtroppo ci ha toccato anche a noi ma siamo riusciti di ottenerne fuori secondo me egregiamente ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni e qui in sovraimpressione vedete il numero di whatsapp che potete usare per mandarci appunto messaggi o foto delle vostre segnalazioni in questo caso parliamo di una vegetazione incolta e una cura del verde che manca da troppo tempo questo è il motivo della segnalazione che un cittadino di Padiglione ha voluto fare al comune di Tavuglia parlando proprio ai nostri microfoni vediamo preferirei del verde tutto intorno per citare la canzone di Calcutta a Padiglione di Tavuglia diversi cittadini si sono lamentati nelle ultime settimane della scarsa manutenzione proprio del verde quell'erba che sì sono contenti di avere intorno ma che richiederebbe una gestione migliore per un decoro che a vista d'occhio sembra venire meno in alcune aree qui è tre anni quasi che non si taglia più l'erba la situazione è qui sotto gli occhi di tutti si chiede al più presto di dare un po' di decoro perché non va bene c'è il campo sportivo c'è l'asilo palestra scuola c'è il fosso le case le abitazioni voglio dire ci troviamo con le bisce in casa le aree interessate principalmente sono due quella di via Antonelli in pieno centro e quella del parco giochi due diversi punti di padiglione ma che sono collegati da quel fosso che dal 2019 non viene ripulito completamente un problema di diverso genere che riguarda anche il ponte in legno a fianco della scuola elementare Fabio Tombari che presenta alcune tavole sconnesse datate pericolose per chi lo percorre a piedi o in bici il comune di Tavuglia però consapevole del ritardo delle operazioni ha fatto sapere che è stato siglato da due settimane un accordo con il consorzio di bonifica provinciale a breve dunque dovrebbe partire lo sfalcio d'erba nelle aree interessate e la sistemazione del ponte in occasione dei vent'anni della biblioteca San Giovanni il gruppo di lettura Un libro per pensiero invita mercoledì alle ore 17 i giovani lettori alle maratone di letture parole poetiche un'iniziativa che si svolgerà all'interno della biblioteca dove ognuno potrà scegliere una pagina di un libro condividendola con gli altri lettori che parteciperanno ai nastri di partenza la 50esima edizione della mostra internazionale del nuovo cinema che si terrà a Pesaro con il contributo del ministero della cultura direzione generale cinema audiovisivo del comune di Pesaro e della regione Marche si parte sabato 18 giugno con E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg in occasione del 40esimo anniversario dell'uscita nelle sale nella grande arena di Piazza del Popolo per concludersi poi sabato 25 giugno con la proiezione di nostalgia alla presenza del regista Mario Martone a cui Pesaro dedica la retrospettiva completa dei suoi film per il cinema una monografia e una tavola rotonda ad arricchire il programma già prestigioso la presenza dell'attore Tommaso Ragno in veste di giurato e di ospite in occasione delle proiezioni sia di nostalgia di cui è protagonista con Pierfrancesco Favino sia del buco in testa di Antonio Capuano che sarà anche presente al festival e continuano anche a moltiplicarsi gli appuntamenti fissi dell'estate nel centro storico di Pesaro come vi abbiamo anticipato già ieri da questa sera ogni martedì c'è il San Pietrino Summer Festival in piazzetta Toschi Mosca mentre da domani ripartono i mercoledì di Via Passeri Continuano a moltiplicarsi gli appuntamenti fissi dell'estate del centro storico pesarese il martedì dedicato al San Pietrino Festival in piazzetta Toschi Mosca e domani mercoledì 15 giugno ripartono invece i mercoledì di Via Passeri terza edizione della rassegna estiva che porterà a vivere a pieni polmoni tutte le declinazioni di una delle arterie stradali più caratteristiche del centro storico coinvolte 22 attività all'insegna della convivialità di ristoranti enoteche e drink bar affiancati alle botteghe storiche alle attività artigianali e commerciali che resteranno aperte ogni mercoledì sera fianco a fianco ad un'offerta culturale variegata su tutte il coinvolgimento del Conservatorio Rossini e della Biblioteca San Giovanni e il Museo Rossini a coordinare il tutto la sempre più strutturata associazione di promozione sociale Centro Commerciale Naturale Via Passeri Itzpesaro questo mercoledì inizierà una bellissima rassegna estiva che coinvolgerà tutte le attività commerciali e ristorative di Via Passeri in collaborazione con attori importanti come il Museo Nazionale Rossini la Biblioteca San Giovanni la Cassa di Risparmio e l'Associazione Libera Musica l'obiettivo è quello di rendere questa Via un contenitore di arte di cultura di musica di spettacolo e fare in modo che la città possa usufruire di tutta quella che è la varietà offerta dalla Via ogni mercoledì in collaborazione col Conservatorio Rossini ci saranno performance itineranti a cura degli artisti degli studenti i giovani talenti del Conservatorio che appunto faranno una performance che si dividerà in tre momenti e che accompagnerà diciamo tutta la via dalla cena fino al dopo cena i ristoranti avranno la possibilità di mettere dei tavoli all'esterno la via sarà chiusa al traffico e quindi si vivrà l'estate pesarese proprio a partire da questa via così importante storicamente per la città di Pesaro l'associazione Via Passeri Pesaro ha amplificato la sua promozione anche con la creazione del portale viapasseri.com una via pronta ad una grande estate già partita con il partecipato rodaggio di Cali City di sabato scorso Via Passeri è stato il primo centro commerciale naturale della città e da questo progetto è iniziato un lavoro sinergico tra il comune le varie associazioni che fanno parte della via e le attività commerciali del posto sono stati molto disponibili anche le attività da subito perché ricordo quando due anni fa era uscito il bando velocemente in dieci giorni abbiamo dovuto creare il progetto c'è stata grande disponibilità da parte loro ma questi poi sono i risultati sono i risultati che quando una via insieme a tante attività che sono anche diverse l'una dall'altra creando rete è un obiettivo che insomma fa vincere perché ormai la via Passeri sta diventando un bel gioiello della città come appunto all'inizio mi stavi dicendo è un salotto all'aperto Continuiamo a parlare di eventi nel nostro territorio Andrea De Logo Veronica Pivetti Iva Zanicchi e Catena Fiorello sono le quattro protagoniste della rassegna Extra Passaggi che sabato e domenica a San Costanzo apriranno di fatto la decima edizione di Passaggi Festival Da dieci anni Passaggi Festival è un caposaldo dell'estate fanese e proprio per il decimo compleanno si è sentita l'esigenza di andare oltre i confini della città della fortuna trovando asilo in un ridente borgo limitrofo pieno di vitalità e con una piazza tutta nuova inaugurata appena lo scorso gennaio ancora prima di sbarcare a Fano infatti sabato 18 e domenica 19 giugno il festival della saggistica aprirà le danze niente meno che a San Costanzo con la rassegna di narrativa italiana Extra Passaggi e lo farà con delle ospiti tutt'altro che secondarie nel centro storico di San Costanzo in una bellissima piazza all'interno delle mura castellane piazza San Pio da Pietrelcina arriveranno quattro autrici e quattro donne straordinarie veramente non potevamo partire meglio con questa con questo allargamento di passaggi festival anche verso l'entroterra in questo caso San Costanzo perché sabato 18 avremo Andrea De Logu e Veronica Pivetti domenica 19 avremo Iva Zanicchi e Catena Fiorello gli orari sono le 19 e le 21 e 15 Andrea De Logu porterà il proprio primo romanzo che si intitola Contrapasso Veronica Pivetti la stessa sera di sabato ma alle 21 e 15 Tequila Bang Bang un giallo messicano domenica invece Iva Zanicchi arriverà con un romanzo non con una sua biografia che si intitola Un altro giorno verrà chiude in bellezza questa rassegna Catena Fiorello con i cannoli di Marites le signore di Montepepe è così quindi che il grande albero di passaggi festival inizia a far cadere i suoi frutti anche oltre le antiche mura fanesi un viaggio verso nuovi orizzonti che è destinato a non fermarsi qui ma abbiamo scelto San Costanzo perché è uno dei comuni dei castelli vicino alla nostra città di grande qualità da un punto di vista urbanistico urbano e anche da un punto di vista amministrativo quindi è stata la prima scelta per valorizzare questi dieci anni di attività di passaggi festival le novità non sono solo la presenza di San Costanzo ce ne sono anche altre abbiamo una media di 15 manifestazioni al giorno dal 18 fino al 26 e quindi tutto questo diciamo ci mette nelle condizioni di pensare positivamente anche per il futuro visto che Passaggi Festival è nato a Fanno ma noi abbiamo l'intenzione di diventare un po' il festival di tutto il territorio di tutta l'area vasta della provincia di Pesurbino sapete anche che stiamo collaborando anche con la Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro perché siamo convinti di una cosa che più manifestazioni di qualità ci sono più viene valorizzato il territorio non è concorrenza anzi questa dimostra fino in fondo la capacità degli amministratori delle persone che pensano alla valorizzazione attraverso la cultura di questo territorio e quindi è una strada che noi vorremmo perseguire anche nei prossimi anni e se concorrenza che concorrenza leale che secondo me non fa male anzi stimola a far sempre meglio termino ringraziando l'amministrazione comunale di Fano quella di San Costanzo e anche la Regione Marche che quest'anno del resto anche come l'anno scorso ha una presenza importante da un punto di vista proprio del sostegno finanziario San Costanzo è pronta i nostri sancostanzesi sono pronti ad ospitare le tantissime persone che vorranno venire a San Costanzo in questo weekend così importante e vi aspettiamo tutti a San Costanzo sabato 18 e domenica 19 giugno e concludiamo questa carrellata di eventi con il comune di Mondolfo che da giovedì 16 giugno lancia la prima edizione di una nuova rassegna culturale letteraria dal titolo Come un libro all'aperto vediamo di cosa si tratta in questo prossimo servizio da Marino Bartoletti a Francesco Guccini da Marina Rei a Teoteocoli passando per Bussola Galimberti Livi Giulia Baldelli e Gabriella Mancini è questa la rosa di nomi che caratterizzerà la prima edizione di Come un libro all'aperto prima edizione di una rassegna letteraria diffusa che contrassegnerà l'estate del comune di Mondolfo da giovedì 16 giugno fino al 7 luglio tanti eventi nel ricco programma delle manifestazioni estive tra gli eventi più importanti c'è proprio Come un libro all'aperto che è una rassegna letteraria a cui abbiamo creduto molto come amministrazione comunale tanti gli ospiti di questa prima edizione ci attendiamo tante persone che vengano insomma a partecipare a questi appuntamenti importanti tema della prima edizione sarà leggeri e pensanti leggeri e pensanti è il tema appunto di questa prima edizione e quindi la lettura e i libri come risorse per poter guardare in modo leggero ma non superficiale la realtà quindi leggerla osservarla e anche interpretarla per poi viverci dentro quindi abbiamo pensato considerando anche insomma i due anni da cui arriviamo tutti il tema della leggerezza credo che sia un tema importante quello di ritrovarsi ma non va mai confuso di ritrovarsi e aggregarsi in modo come dire positivo abbiamo dato in questi ultimi due anni una connotazione negativa l'aggregazione invece è l'idea che possano essere i libri lo strumento di aggregazione che la leggerezza non venga confusa con la superficialità ma solamente una chiave di lettura della realtà come un libro all'aperto sarà caratterizzato da scrittori che declineranno ogni sfaccettatura culturale davvero tanti davvero tanti gli scrittori coinvolti in questa prima edizione e devo dire scrittori autori e personaggi che coinvolgono i diversi ambiti della cultura nelle sue diverse declinazioni dallo sport alla comicità avremo Teo Teocoli Marino Bartoletti uno scrittore come Matteo Busso e diversi altri ci sarà anche Marina Rei e poi Galimberti e rischio poi di non ricordarmeli tutti ma nel programma sono evidenti i loro nomi ed è evidente anche la loro fama e il loro valore apertura giovedì 16 giugno con Matteo Bussola e il tempo di tornare a casa la rassegna si aprirà appunto giovedì 16 giugno con Matteo Bussola scrittore, fumettista conduttore radiofonico e verrà a presentare il suo ultimo libro che è il tempo di tornare a casa ma ci riserverà anche una bella sorpresa che nel momento in cui la dirò non sarà più una sorpresa però vale la pena dirla nel senso che il 28 giugno uscirà il suo nuovo nuovo libro quindi questo libro che è attualmente solo prenotabile è già in vetta tutte le classifiche e ci ha assicurato che durante la presentazione del 16 parleremo anche di questo nuovo libro nuovo libro dal titolo Il Rosmarino non capisce l'inverno che aprirà un festival che alternerà grandi nomi ad alcune chicche tutte da scoprire abbiamo anche autori come Roberto Livi e Giulia Baldelli che sono due autori che personalmente ho scoperto da un po' di tempo e me ne sono innamorato di quegli autori che quando leggi il loro primo libro nel caso di Roberto Livi non vedi l'ora di leggere anche il secondo per quanto riguarda la Baldelli invece è un libro d'esordio ed è una storia fantastica una storia curata una storia che racconta come dire la vita quotidiana di due ragazze ed è stata veramente una bellissima scoperta quindi quando l'abbiamo inseriti quando ci siamo resi conto di poterli inserire all'interno della rassegna ne siamo stati veramente molto felici evento nell'evento la cittadinanza onoraria a Francesco Guccini un evento atteso da tutta la nostra comunità e sarà un momento davvero di festa per tutta la città in piazza del comune il 25 giugno avremo appunto l'abbraccio di tutta la comunità di Mondolfo e Marotta al noto cantautore e come vedete sono tanti gli appuntamenti nel nostro territorio quindi continuate a seguire anche per tutta l'estate il nostro telegiornale nei due orari alle 19.40 e 20.40 la sera per essere informati sui tanti appuntamenti che sono previsti per passare e divertirsi in questa prossima estate adesso invece vi ricordiamo che questa sera sarò in diretta condurrò insieme a Maurizio Blasi 8 anni da sindaco questo dibattito che avviene alle 21 all'interno del cortile dei musei civici quindi partecipate di persona se potete oppure ci potete anche guardare in diretta sul canale 80 appunto alle ore 21 e poi andiamo a ricordarvi che domani saremo insieme di nuovo quindi ci rivediamo anche domani mattina alle 7.20 in diretta tv e facebook con la nostra rassegna stampa e il consiglio che vi diamo sempre è quello di scaricare gratuitamente la nostra applicazione per avere Rossini TV sempre a portata di mano anche quando siete in vacanza anche quando siete sotto l'ombrellone potete seguire in diretta ad esempio la nostra rassegna stampa o il nostro telegiornale oppure andare a rivedere le puntate che vi siete persi ho detto davvero tutto carissimi amici grazie per essere stati con noi anche questa sera vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti